In collaborazione con Glamvision e Ottima Trento. Dal Bus Rapid Transit agli appartamenti Thea, dal treno dell'Avisio alle Funivie, Fugatti, pronto a rivoluzionare la Valli Passa, ma per ora c'è poco. Trasegia, durante l'intervento dei carabinieri dopo il taser, l'uomo va in arresto cardiaco e muore. Tra alcol e droghe si era lanciato dalla finestra in confusione. L'altra montagna, cane incustodito uccide una gallina del rifugio bosco nero. Portarne una qua su non è semplice, per questo motivo serve più consapevolezza.